Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà il graduale allontanamento dalle regioni settentrionali dei temporali transitati nella sera e nella notte e quindi in gran parte del paese è tempo bello ma con un po' di instabilità residua al nord-est. Controviamo la nuvolosità a terra sul nostro paese, come vi dite al nord inizialmente ancora qualche nuvola ma poi situazioni in rapido miglioramento, si farà vedere qualche nuvolamento in Liguria sull'Alta Toscana però giornata in complesso, tranquilla. Come precipitazioni vedrete che qualche macchionina azzurra tornerà a spuntare nel pomeriggio sulle regioni di nord-est appunto un po' di variabilità residua ma per il resto giornata buona quindi ci attende una domenica sostanzialmente di sole in gran parte d'Italia, sicuramente al centro-sud ma anche al nord si va verso un miglioramento qualche nuvola in Liguria e poi vi dicevo un po' di instabilità all'estremo nord-est. Per il resto estate piena al centro-sud a Sissuda ma per tutti i dettagli consultate l'app di Trebi Meteo.